Per effetto di questa votazione io considero decaduto l'emendamento numero 3, il subemendamento numero 3, perché chiede, mi lasci finire almeno, grazie, perché avendo espresso un voto contrario alla riduzione del 20% del Consiglio, ai sensi del comma 7 dell'articolo 59, il Presidente dichiara inammissivi gli emendamenti estranei all'argomento di discussione e decaduti quelli contrastanti con precedenti votazioni sulla stessa proposta di deliberazione. Mi sembra del tutto evidente che questo subemendamento contrasterebbe con la votazione sull'emendamento numero 2. Lei ha dichiarato che, se ho capito bene, sulla scorta il subemendamento 2 appena dichiarato, appena respinto è decaduto il 3. Mi potrebbe spiegare perché in contrasto? Scusi, se il Consiglio non ha approvato la riduzione del 20%, perché dovrebbe approvare quella del 50%? Magari il Consiglio... Magari è proprio poco, no? Perché? Perché magari è poco il meno. Sì, lei, siccome il Presidente è qui ad interpretare anche la volontà del Consiglio... Comunque è una responsabilità del Presidente, visto che fate ricorso direte anche questo. Punto. Presidente, non so... Emendamento numero... Presidente, ma... Insomma, decide il Presidente. Ma no, Presidente, non so decide. Allora, Presidente, decida. 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 Va bene. Adesso è l'ora nella quale si deve fare questa manfrida. Presidente, la Presidente decide che sono decaduti tutti. Facciamo prendere. No, io non lo dico, perché non mi prendo la responsabilità. Stai dicendo che uno è contro l'altro. Mi spieghi qual è la logica. Il regolamento dice quando è in contrasto. Io qui il contrasto non lo vedo. C'è una cifra... Lei non lo vede, io sì. No, c'è una cifra che è stata rispinta e c'è un'altra cifra che non è stata discussa. Il fatto che la seconda cifra sia un'entità maggiore rispetto alla prima non è in contrasto. È maggiore. Scusi, le sto dicendo. Che arriva nella vita il fatto che qualcuno si prenda la responsabilità. Il Presidente decide di... Signor Presidente, lei non è qui per prendersi le responsabilità per togliere le castagne dal fuoco alla maggioranza. No, 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 no. Lei è qui per far rispettare la norma. Perfetto, infatti. Perfetto. Allora, o mi spiega chiaramente... Le ho detto ai sensi. Il regolamento prevede che ci debba essere un contrasto. Questa è una cifra che è stata rispinta. Per me è in contrasto. Dov'è il contrasto? Lo dico io, ritengo che è in contrasto. Va bene? Mi scusi, signor Presidente, mi scusi un attimo, però cerchi di fare quello per cui è stato votato. Lei deve essere garante di questo Consiglio e deve mettere nelle condizioni i consigli comunali tutti, non solo quelli di maggioranza, ma anche quelli dell'opposizione, di esercitare le loro funzioni. Ok, lei adesso ha fatto un'interpretazione. Vorrei capire sulla base di cosa ha fatto questa interpretazione. Sulla base di quale regolamento, perché non è arbitrario. Cioè, lei non è Gesù Cristo, è questo quello che voglio dire. Lei non è nessuno, lei deve semplicemente regolamentare i lavori d'aula e basta, non deve fare nient'altro. Sono uno, nessuno e centomila. Intanto solo uno che decide, intanto non sono Presidente. No, non è uno che decide. Non sta scritto da nessuna parte. Qual è la proposta sull'ordine dei lavori? Non sta scritto da nessuna parte che lei debba decidere. Lei decide sulla base del regolamento. E ha delle interpretazioni sulla base di un qualcosa che è costruito sul vero. Perché dire che questo subemendamento non è ammissibile perché il precedente è in contrasto con quello precedente. È una valla, Presidente. E che lei non sa che cosa fare. Non sa quali strumenti utilizzare per toglierci la parola. E quindi utilizza questi. Lei sta facendo una brutta figura. Sta facendo solo ed esclusivamente una brutta figura. Quindi io la invito a dire che ha sbagliato, a rimettere in discussione il subemendamento 3, di conseguenza anche il 4. Perché lei in questo momento non sta assolutamente tutelando un principio che è la democrazia. Non lo sta tutelando.